Teledurro di Gustavo Tagliaferri Mink Deville Mai sentito Successivamente lo stesso Willy Deville sarebbe diventato solista Qui lo ammiriamo Mentre ci fa vedere Uomini con la dentatura americana Chiuso Scarpa Elegante Gir I denti americani Chi è questo? Yes nel periodo pop No quello di prima Questo è sempre Mink Deville Ma Mink Deville non l'ho mai sentito Ah questa è bellissima Sembra un quadro di Turchato Andavano molto forti In Germania Nell'anni 70 Con dischi come Fragile e Close to the Edge Non era tutto quanto uno fiorito Tipo quanto giardino indiano Una volta la grafica All'incirca questo è il periodo più pop La copertina Simon Says Mistoprafico politico a fine della storia O un nuovo Lonely Art Qui semplici linee di idoli Perfetto Convertino che faceva la grafica Nell'anni 80 Dico bene Roberto Diciamo sì Certamente Certamente Convertino e Harari Facevano coppia Va bene Chiuso Vai avanti I Madness Siamo nel mondo SCA Sì Questo è un tardo Madness Ma solitamente Sono una galanzia Questo c'è il Fez Questo tipo di Fez Dove è in uso? In quale paese del Maghreb? Non mi ricordo di preciso quale Però so che è abbastanza in uso No Dove? Passo Non mi ricordo Maroc La Tunesia Non ce l'hanno Comico Ok Grazie Grazie infinitamente Analisi dei titoli disponibili nel catalogo Sempre Madness e Nuss L'Udon Way L'Udon Tra poco finisce la festa perché il telefono non è salta la comunicazione L'Udon Way è il terzo Bello bello Credo sia il padre di Rufus Un uomo che si sta per denudare Perfetto E qui si sente soleggiato Incinto Esatto Un uomo incinto Come Depardieu in quel film Depardieu Anche Niente di grave Sono i anni Aiuto mio marito incinto Un film dell'anni Era niente di grave Su marito incinto Se non sbaglio Esatto Una porta aperta Che ci usa Lloyd Coland Commodore Bruttissimo Bruttissimo Toglio Anche qui vuoto Vabbè lo stesso I Beautiful South Pratico e autolesioniste Questa si fa L'autobocchino E questo si fuma La svamp Perfetto Si vanno a morire Bruttissimo Bruttissimo Dai che stiamo per telefonare Van Morrison Di dove va Van Morrison Credo che sia Inglese O sbaglio Non voglio di sciocchezze Noi lo conosciamo Tutto per Astraluix Però Questi due aspetti Devi sapere Roberto Che siccome Quelli che pensano Che sia una discussione Culturale Sulla musica Non è così Fallo parlare Fallo parlare Non è così Non è così Non è così Noi vogliamo sorprendervi Sempre con nuove cose Nuove copertine Nuove copertine E intanto sempre per Van Morrison Una mano emerge Per toccare L'arcobaleno Sulla luna Sempre più piena Che mai Un pensiero proprio Mondografico Esatto Abbiamo finito Forse un extra Però Lo vorrei donare Eccolo qui Scusate Roberto Quando lo licenzi Ma non è in previsione La cosa non entra Non è in previsione Smaggio A una grande voce Questo si chiama Francesco Di Giacomo Ha morto purtroppo Un incidente stradale Io ci ho ripensato tanto Capolinea E ha recitato pure In un film Di Fellini Satiricon In Satiricon Ma anche nei Clowns Se non sbaglio Successivo Questo è un live minore Ma alla fine Sono sempre loro E assiste al talento suo Perfetto Per vendere un ultimo Perché arrivi la telefonata Sbrigati È lento È lento Ma no Ci mette il suo Ci mette il suo Un minore disco Della PFF Più brutta di queste copertine Non ne potevi prendere Però questa figura È abbastanza facile Prima che arrivi la telefonata Del mio amico Dario Evola Che deve raggiungerlo Abbracciamolo Ti voglio bene Adesso arriva Arriva De Novo L'abbiamo fatto vedere De Novo Ah Catanesi I Catanesi I Catanesi Questo è il disco Combattia della produzione Luca Madonia Madonia Mario Venuti Tony Carbone E Gabriele Madonia E Gabriele Madonia E' questa gran funcia di minchia Pure Lo schermo ci prospetta Grandi future Idee Novo Che stavano insieme Elite Fibba Hanno arrivato insieme Quelli di Firenze E questi Della città di Catania Esatto Guarda che bel disco Che c'ha il signore Bubi forti Ce lo presto Un attimo Ma questa è molto bella Questa copertina Ci piacciono le copertine fumettose Sì Questo è Frankenstein Grazie Salutiamo Via Bargoni 62 Gustavo D'Aiafer Selle d'Orru